benvenuti in un nuovo episodio dedicato a city skylines 2 video un po diverso rispetto al solito in quanto voglio parlarvi delle mod che ho attualmente che attualmente sto usando in Luzanzia come ben sapete in questo momento le mod attraverso steam sono disattivate o meglio non sono ancora disponibili se ne parlerà con il 2024 però abbiamo comunque la possibilità attraverso un tool esterno di poter usare delle mod perché i modder sono già al lavoro ormai da un bel po di settimane il tool in questione si chiama thunderstorm vi lascio tutti i link sia del programma che delle mod che sto usando attualmente in gioco in descrizione ovviamente il tool è un tool gratuito ovviamente che si presenta in questo modo una volta avviato il programma vi dirà di creare un profilo a questo profilo ovviamente dovete associare il gioco in questione quindi in questo caso city skylines 2 è una volta che avete visionato le mod selezionato la mod che volete scaricare cliccate su download in automatico per la scarica bella attiva in automatico fatto questo il gioco non lo dovrete attivare da steam ma attraverso il tastino in alto con la descrizione modded se voi invece avrete il gioco da steam senza il programma aperto e quindi cliccando su modded avrete il gioco senza mod appunto in gioco attivato io la prima volta non lo sapevo di questa cosa e ci è rimasto un attimino male poi ho visto che comunque c'era questo tasto modo ho detto proviamo ed effettivamente il mod serve per questo motivo qui quindi avviate il gioco da modded una volta che voi cliccate su modded in automatico vi apre addirittura steam vi apre la schermata di city skylines dove c'è l'opzione play o resume e poi da lì giocate normalmente come potete vedere in questo momento io ho sette mod attive in gioco la prima mod bep in ex pack è una mod che serve obbligatoriamente per far funzionare tutte le mod quindi dovete semplicemente scaricarla installarla e siete obbligati a fare questo un altro modo unified icon library questa è un contenitore di icone credo che si sia installata in automatico con la mod line tool light perché onestamente non ricordo il perché di averla installata ipotizzo che visto che il creatore lo stesso line tool light e unified icon library viaggiano insieme non mi ricordo non ho nemmeno la voglia di andare lì a disinstallata disattivarla e fare le robe qui lasciamo così quindi una e due diciamo che sono obbligatorie questa qua tra mille virgolette betty nex questo è obbligatorio sicuramente la prima modo di cui andiamo a parlarvi è extended road upgrade cosa fa questa mod torniamo in gioco cliccando il tool strade e poi su servizi stradali a differenza del gioco base la mod aggiunge quattro icone sono quei retaining wall elevated e tunnel partiamo subito dal tunnel perché la parte più brutta di questa mod per esempio noi abbiamo questa strada ci serve che sia un tunnel tunnel funziona in questo modo funziona fondamentalmente non piace come funziona come potete vedere nei punti di collegamento tra i vari segmenti non mi crea il tunnel all'inizio e alla fine mi crea questo bug grafico per cui l'opzione tunnel io ve la sconsiglio quindi prendiamo eliminiamo questo pezzo di strada e andiamo a parlare di cose serie quei io questa opzione l'ho usata sull'isola principale per fare qui il muro esterno senza questo muro esterno praticamente avrei avuto una roba del genere mentre se io invece vado a crearmi il muro esterno ho una cosa esteticamente un po più carina questa opzione oltre che per usarla appunto per fare come muro esterno di un isolotto se noi qui abbiamo una rampa io posso andare a creare il muro anche da questo lato da questo punto di vista no una cosa carina estetica da vedere dall'esterno vedete è bellina non è perfetta perché comunque vedete che c'è qui e anche qui vedete i pilastri quindi non è perfetta questa mod altro punto critico della mod è che se io dammi qua vado a zoomare da questo lato ok e me ne vado all'altro lato potete vedere che il muro esteticamente sparisce però il muro c'è quindi diciamo che bisogna usarla un attimino nei punti giusta questa mod però fa il suo lavoro retaining wall questa opzione invece l'ho usata su questa parte della città se io vado a cliccare col tasto destro del mouse lo vado a disattivare il muro esterno se clicco invece col tasto sinistro lo vado a riposizionare vedete e mi crea appunto qua il muro esterno tutto questo muro qui io l'ho creato all'epoca attraverso questa mod qui elevated elevated va beh lo dice la parola stessa mi va a creare un ponte vedete questa strada è diventata ponte e la disattiviamo tunnel come il mod visto già in precedente lasciamo stare poi l'altra modo che sto usando attualmente traffic light enchantment alfa quindi già nel nome l'autore vi dice che questa è una mod in fase alfa torniamo in gioco andiamo a prendere un incrocio magari proprio qui nella zona industriale ok prendiamo questo incrocio qui sempre attraverso l'opzione servizi stradali andiamo a cliccare su semafori e già in alto a sinistra vi compare una finestra cliccando poi sull'incrocio la finestra si espande e vi fa vedere tutte le opzioni o disattiviamo tutto questo resetto ok questo è di base come si nonostante clicchiamo su un incrocio le opzioni di base sono così senza alcuna modifica fatta traffic traffic signal di base vanilla quindi come impostato dal gioco poi abbiamo diverse opzioni split facing advanced split facing e protected left turns cosa fa questa prima opzione o di base quando c'è un incrocio il gioco erroneamente fa sì che siano verdi due semafori in contemporanea per cui si va a creare traffico è già il gioco dal lato del traffico è messo male in più abbiamo i semafori che non fanno nemmeno il loro lavoro per cui è la nostra morte infatti vedete visto in questo caso questi due mezzi sono passati in contemporanea se magari questo doveva andare doveva scendere e questo doveva salire avrebbero creato traffico qui all'incrocio invece andando ad attivare queste opzioni farà sì che sia verde un semaforo alla volta per cui per avere aiuta sicuramente dal punto di vista del traffico oltre a modificare la fase dei semafori abbiamo due opzioni aggiuntive exclusive pedestrian face ed always green right turns cosa fa la prima fa sì che nel momento in cui questo semaforo è diventato verde poi è stato il turno di questo poi c'è stato questo turno qui e infine è diventato verde quest'ultimo semaforo farà sì che tutte e quattro i semafori diventano rossi e darà la possibilità ai pedoni di passare in tutta tranquillità quindi farà sì che il semaforo relativamente ai pedoni siano verdi su tutte e quattro le strisce pedonali l'opzione invece always green right turns come dice la stessa parola chi deve girare a destra avrà sempre il semaforo verde però abbiamo un però come potete vedere chi arriva da questa strada oltre che andare a destra può andare anche dritto per cui se noi qui attraverso il tool line direction tool che è in fase sperimentale per cui la modda in alfa e questo tool è sperimentale quindi prendiamo la mod con le pinze cliccando su open compaiono questi quattro tasti cliccando su questo abbiamo la possibilità di variare le freccette a terra vedete in questo modo poi cliccando su salva fa sì che chi arriva da qua e deve voltare a destra può voltare a destra tranquillamente ovviamente questo questo caso non poteva perché aveva già altre direzioni dove andare da altre parti e via così quindi questa è una modo molto utile soprattutto se avete una città grande grande flusso di traffico sulle strade vi potrà dare una grossa mano ok prossima mod la prossima mod è scullo capacity balancer questa mod io l'ho dovuta utilizzare in quanto sull'isolotto principale avevo già creato 8 o 9 scuole elementari e non erano sufficienti per cui quella mod fa sì che la capacità delle varie scuole venga aumentata e infatti la scuola elementare con installata l'ala di estensione ha una capacità di 3000 studenti di base mi pare che il numero sia o 1500 o 2000 ora non ricordo esattamente quindi se avete magari una grossa città avete la necessità no avete una città dovete costruire un numero esagerato di scuole questa modo vi viene incontro e ve la consiglio vivamente altra modo abbiamo line tool light questa mod era presente anche nel precedente city skyline cosa ci permette di fare noi abbiamo se siamo un albero andando a cliccare su straight line non l'ho preso ok compare questa schermata qui abbiamo diverse opzioni per esempio andiamo ce n'è qui noi qua in ingresso di strada vogliamo creare una striscia di alberi che ci permette vedete molto semplicemente senza star lì a cliccare singolarmente ogni singolo albero e in più come potete vedere questa modo fa sì che gli alberi vengono creati già nella loro versione già cresciuti ok quindi non dovete aspettarli ad aspettare che gli alberi vadano a crescere oltre a costruire ovviamente gli alberi in linea retta li prendiamo possiamo andare a fare una curva oppure anche un cerchio e in più abbiamo le diverse opzioni che conoscete sicuramente quindi possiamo fans modo praticamente dammi questo in automatico vedete veli crea uno attaccato agli altri più vicini possibile oppure se invece li vogliamo mettere alla distanza in modo autonomo per esempio ogni 26 metri metti un albero non gli 20 metri non mi sta bene vogliono i 30 e così via questa modo se siete interessati magari a rendere più bella la vostra città è una modo che dovete installare ovviamente infine io ho installato come mod la mod anarchy la mod anarchy io in gioco sono andato ad usarla per la prima volta in questa zona qui in questa zona io ho tre scuole le tre scuole sono tutte attaccate una all'altra quindi non c'è possibilità di poter costruire nulla tra una scuola e un'altra ma attivando la mod quindi o cliccando direttamente su questa a oppure tenendo premuto i tasti ct rl è il tasto a si va ad attivare la mod e questo modo ci permette di costruire senza problemi sugli oggetti già esistenti in gioco esempio pratico questa è una scuola come potete vedere questa striscia qui fa parte della scuola io teoricamente non ci posso costruire vedete oggetti sovrapposti mi dice il gioco se invece attivo la mod e io qui voglio fare un percorso pedonale che mi collega qua lo posso fare tranquillamente ed è la stessa cosa che ho fatto qui e si costruisce normalmente è il percorso pedonale viene usato tranquillamente altra cosa per esempio prendo un albero e su questa strada io voglio costruire gli alberi abbiamo costruito gli alberi letteralmente sul marciapiede vedete quindi è una mod molto utile anche questa come la mod precedente per chi vuole abbellire la propria città è una mod che vi può venire molto incontro attualmente non ho altre mod installate sono solo quelle che avete che vi ho fatto vedere anche se comunque ci sono ben 101 mod per cui avete l'imbarazzo della scelta addirittura adesso ci sono pure le radio stanno mentendo quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta su quello che volete e potete installare detto questo vi ripeto vi lascio tutti i link in descrizione e in più visto che probabilmente questo video andrà sul canale già nella stessa giornata di oggi oggi che 30 dicembre ne approfitto per farvi gli auguri di buon anno detto questo vi saluto vado a registrare il prossimo video che dovrebbe essere il 23esimo e ci vediamo appunto nel prossimo video